bisogna fermarsi e ripetere questa fase di batteria, questa prima batteria sono ripartite Elena Brioschi e Emy Libra adesso abbastanza similari i metà giri, vediamo le conferme cronometriche 21.100 per Emy Libra adesso, 21.359 per Elena Brioschi regolare per questa seconda batteria leggerissimamente avanti l'atleta del Bellusco al metà giro vediamo il finale al cronometro 28.38 per Marta di scuola del coordinatore Spinea 29.34 per l'atleta del Bellusco in posizione set riserviamo avanti l'atleta del Bellusco al metà giro vediamo il finale 20.670 per Giorgia Iannarelli 20.910 per Susanna Rocchetti set via 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 20.00 praticamente coincidente tra le due atlete vediamo quando finisce il cronometrico al finale 23 8 7 per Giulia Pedon 24 5 5 per Angelica Pedoni 7 vincela 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 esermi davanti la teta dell'arte è cercato la passata trovo confermerà la cronometro 19,957 il tempo per lei 20,440 per Zoda Mui-Ragoni della pin line in posizione 7 anche qui praticamente coincidenti alla metà giro vediamo il finale 19,7,3,1 per Asia Negri 19,7,7,5 per Selena Cesta